Dal Vangelo secondo Giovanni Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario, che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide, e credette. Infatti, non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. È il giorno di Pasqua, è il giorno più importante dell'anno per i cristiani, e Pasqua è veramente la parola più importante della nostra fede, il suo centro, perché Pasqua vuol dire che Gesù ha vinto la morte, non solo la sua, ma la morte di tutti. E allora la vita non è più, come dice Don Luigi Epicoco, non è più un enigma, ma è un mistero. Enigma è qualcosa di indecifrabile e che rimane tale. Mistero è qualcosa che non si comprende immediatamente, è qualcosa di nascosto, nell'accezione cristiana, ma che viene piano piano svelato. Ecco, la risurrezione di Cristo è la chiave che ci apre il mistero della vita e della morte, che ci fa guardare al di là. Quando si va a Gerusalemme e si entra nel santo sepolcro, sempre con una grande emozione evidentemente, ci sono due ambienti, la cosiddetta Sala dell'Angelo, una prima piccola stanzetta, e poi una ancora più piccola, la camera sepolcrale, in cui bisogna chinarsi perché la porta è veramente bassa. E sopra questa porticina, sempre aperta, questo piccolo arco, c'è la scritta in greco presa dal Vangelo, le parole dell'Angelo alle donne, perché cercate tra i morti colui che è vivo. E ci chiediamo sempre a quei pellegrini, cosa veniamo a vedere a Gerusalemme? Una tomba vuota, una tomba vuota, ma quando entri lì dentro senti di essere al centro del mondo, al centro della storia, perché lì c'è il fatto che ha cambiato il senso della storia e della vita. Lì Gesù è risorto dai morti, lì ci sono quei teli posati di cui ci parla del Vangelo di Giovanni, attraverso i quali il discepolo vede che il corpo non è stato rubato, perché i teli si sono afflosciati e il sudario è riposto con cura in un luogo a parte. Con quei segni l'Apostolo amato, che rappresenta ognuno di noi, ha visto e ha capito cos'era successo. Il Signore, quel corpo, non era stato rubato, non era scomparso, annullato, ma era entrato in una dimensione nuova e diversa, la dimensione della vita eterna. Dice il Vangelo, hanno avuto bisogno di vedere quella tomba e quei teli, perché non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. A noi basta e deve bastare la scrittura. Certo è bello andare a Gerusalemme e vedere quel sepolcro, ma non è necessario, indispensabile, perché la scrittura, se noi la leggiamo con tutto il cuore, con la luce dello spirito, ci annuncia e ci testimonia questo evento e poi diventa esperienza per ciascuno di noi credenti. Gesù è vivo, Gesù è con noi, Gesù opera nella mia vita, Gesù ha dato la vita per me. E allora cambia tutto, cambia tutto il modo di vedere le cose. Ufficialmente non cambia niente, la vita rimane quella che è. Dobbiamo fare i conti con la pandemia, dobbiamo fare i conti con la nostra fragilità, dobbiamo andare a lavorare se possibile, dobbiamo, ci ammalliamo, ci moriamo. Ecco, tutto resta com'è, ma tutto cambia, perché cambia il senso, perché cambia il modo di guardare la vita, perché non sei più solo e perché i tuoi giorni e i tuoi cari restano per sempre e noi li riabbraceremo e ritroveremo tutto della nostra vita, quello che è stato salvato dall'amore, perfino il peccato, quando viene perdonato nella misericordia di Dio. Tutto è riscattato per sempre, perché è Pasqua, perché la vita ha vinto la morte, perché Gesù è il vivente. Buona Pasqua di Ressurrezione a tutti. Buona Pasqua di Ressurrezione a tutti.